C'è il principe dell'Uganda che offre 100 mucche per Giorgia Meloni, c'è la Lega che si divide in correnti come un PD qualsiasi e c'è la bufala delle sette moglie e dei sette redditi di cittadinanza. Eccoci al nostro quotidiano bestiario di governo. Iniziamo. Primo, ci mancavano solo le mucche ugandese. Mouhozi Kainerugaba, capo dell'esercito ugandese, figlio del presidente, ieri ha preso in mano Twitter e ha offerto 100 mucche per prendersi Giorgia Meloni. Quante vacche dai al prossimo primo ministro italiano? Ha scritto, aggiungendo, io le darei immediatamente 100 vacche in core. Al di là dello schifoso sessismo della battuta, Mouhozi ha deciso di coronare la sua figura barbina internazionale parlando di Annibale che avrebbe conquistato Roma. Eh no, non è così. E poi ha cercato di rimediare spiegando che le vacche in core sarebbero le più pregiate del suo paese. Giorgia Meloni, del resto a qualche potente ha allupato, sarà abituata, visto, dico, la composizione della sua coalizione. Poi Bossi è vivo e lotta insieme a noi. Sembrava avesse perso il seggio e invece Umberto Bossi è bello baldanzoso. All'interno della Lega di Salvini si è creata la sua corrente, Comitato Nord. Nel Comitato dice non sono coinvolti i nomi che non fanno parte del partito, spiega Bossi. Peccato però che ci siano nomi che contano del partito. A capo dell'organizzazione c'è l'europarlamentare Angelo Ciocca. A gestire rapporti con i militanti c'è il deputato Paolo Grimoldi. L'area in Casalega è così terza che il nemico giurato di Salvini, Gianni Fava, sente addirittura puzza di complotto e dice Comitato Bossi, mossa sospetta, surreali correnti nordiste in partito Salvini. Le circostanze con le quali nasce la cosiddetta corrente bossiana all'interno della Lega Salvini Premier sono quantomeno sospetti, dice i giornalisti. Un bel parlamentino. Non c'è che dire. Poi ne arrestano uno al giorno. Il sindaco di Priolo, Gargallo in provincia di Siracusa, Pippo Gianni è stato arrestato dalla polizia. L'accusa è concussione. Gianni aveva aderito ad agosto a Lega Sicilia prima l'Italia, la costola isolana del partito di Matteo Salvini. Non c'è che dire. Ultimamente Salvini ha un fiuto infallibile. Poi decide Silvio. Se qualcuno avesse dubbi sulla natura padronale di Forza Italia può rileggersi la dichiarazione di ieri di Antonio Tajani, che non è mica uno qualunque, che è il coordinatore nazionale di Forza Italia. Dice io ministro deciderà Berlusconi, non osmani particolari. Il diritto di avere un'opinione del resto da quelle parti è un osmania particolare. Si sa. Poi le sette mogli e il reddito di cittadinanza. La destra, Salvini in testa, si scatena per un presunto marocchino che avrebbe sette mogli e ognuna di loro prenderebbe il reddito di cittadinanza. La rilancia Salvini, te pareva, la rilanciano tutte le gole profonde della destra. Però nessuno sa il nome di questo tizio. Anzi, nel pomeriggio di ieri viene fuori che la notizia nascerebbe da qualcuno che l'avrebbe sentita al bar. Complimenta il giornalista. Nessuno pone la domanda però che smonta la balla. La poligamia in Italia è un reato e per avere il reddito di cittadinanza si deve presentare lo stato di famiglia. Buffarare, semplicemente. Poi, chi vi ricorda? Sentite qui. Vogliamo avere qui nel nostro paese invece di mamma e papà genitori numero uno, numero due, numero tre? Siamo completamente impazziti? Vogliamo davvero che le perversioni che portano al degrado e all'estinzione siano imposte nelle nostre scuole fin dall'elementare? Chi l'ha detto? No, non l'ha detto Giorgia Meloni. L'ha detto Vladimir Putin due giorni fa al Parlamento russo. Non serve nemmeno aggiungere commenti. Vero? E infine, a chi si riferiva Meloni dice l'obiettivo è non disturbare chi vuole creare ricchezza. Si riferiva agli operai. Vero?